Buongiorno, con la lezione di oggi andiamo a guardare l'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 7 delle Nazioni Unite, assicurare l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni entro il 2030, dove per moderni intendiamo funzionali alla vita di tutti, tutti i giorni. Andiamo a dare una quantificazione geografica del tema dell'accesso all'energia e innanzitutto distinguiamolo nelle sue due diverse componenti, l'accesso a forme moderne di energia nell'ambito del clean cooking, ovvero delle tecnologie e delle forme di energia per cucinare e per riscaldarsi, e nell'ambito dell'accesso all'energia elettrica, che è quello di cui ci occuperemo oggi. Vediamo come ancora al mondo circa un miliardo di persone non hanno accesso all'energia elettrica in maniera stabile, affidabile e moderna. Geograficamente il problema riguarda in maniera prevalente il mondo subequatoriale, l'Africa subsahariana, l'India e ancora per percentuali poco rilevanti, ma comunque importanti, l'America Latina. Mentre l'India ha il numero maggiore di persone che non hanno accesso all'energia elettrica, alcuni stati africani hanno le percentuali maggiori di mancato accesso. Ci sono paesi dove meno del 20% della popolazione ha accesso all'energia elettrica. Guardiamo ora brevemente le conseguenze del mancato accesso all'energia elettrica, nelle dimensioni fondamentali dello sviluppo sociale, economico e della salvaguardia ambientale. Nel tema dell'inclusione sociale, che riguardano peraltro gran parte degli altri obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, vediamo come l'accesso all'energia elettrica rappresenta un prerequisito per garantire un sistema sanitario e una salute pubblica adeguata, per garantire un'educazione, per garantire gli obiettivi di uguaglianza di genere. Immaginatevi un dispensario, un centro di salute, un ospedale in un contesto rurale dove non c'è energia elettrica. Non solo non ci sarà accesso ai macchinari, alla luce per le sale a parte durante la notte, ma non avremo neanche la disponibilità dei dottori più preparati a abitare e a lavorare in un contesto dove non viene nemmeno accesso all'energia elettrica. La stessa cosa l'avremo nella dimensione dell'educazione e altrettanti sono gli impatti sull'impossibilità di garantire un'uguaglianza di genere nel momento in cui gran parte del tempo delle donne, gran parte del tempo dei bambini e in particolare delle bambine, è dedicato alla gestione della famiglia, del nucleo familiare, senza un valido alleato come l'energia elettrica. Nello sviluppo economico risulta evidente come l'accesso all'energia elettrica rappresenta un prerequisito per l'agricoltura, per trasformare e per conservare i prodotti alimentari, per il commercio, per prolungare le attività di vendita, di trasformazione e di conservazione dei prodotti e anche molto banalmente nelle attività industriali. Non che queste non siano possibili attraverso il ricorso a dei generatori diesel per esempio, ma è evidente che il prezzo di produzione dei prodotti realizzati con sistemi inefficienti di energia elettrica non sono competitivi nell'ambito di un commercio sempre più globale, sempre più internazionale. Infine, la dimensione dell'ambiente. L'accesso all'energia si sovrappone in questo caso alla sfida ai cambiamenti climatici. I paesi della fascia equatoriale sono quelli maggiormente esposti ai cambiamenti climatici, ai drammi causati dai cambiamenti climatici, che sono paradossalmente generati dai sistemi energetici e dalle centrali di generazione combustibile fossile, dei paesi maggiormente sviluppati. Eppure i paesi in via di sviluppo non hanno le tecnologie per mitigare e per adattarsi ai problemi di cambiamento climatici. Come fare a pompare l'acqua a un pozzo sempre più profondo se non si ha energia elettrica? Bene, lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenta forse il punto di unione tra questi due sistemi. Da un lato permette ai paesi sviluppati di ridurre i propri impatti in termini di emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici e dall'altro permette ai paesi in via di sviluppo di avere un nuovo alleato nella sfida all'accesso a forme moderne di energia. Le energie rinnovabili, le fonti rinnovabili si possono infatti combinare con delle tecnologie di piccola scala che possono essere più facilmente diffuse a livello locale e non necessitare dello sviluppo delle grandi reti di distribuzione e di trasmissione che fino ad oggi sono state la colonna portante dei sistemi elettrici, quindi l'importanza del trasferimento non solo tecnologico ma anche di capacità e quindi di educazione dei paesi beneficiari delle nuove tecnologie. Le risorse energetiche rinnovabili sono il solare, l'energia eolica, quella del vento, ma anche la tradizionale energia idroelettrica e il ricorso alle biomasse. Anche in questo caso sarà fondamentale garantire contestualmente un ricorso sostenibile alle risorse ambientali. Le energie rinnovabili si potranno combinare con le nuove tecnologie, le smart grid, gli smart meters, le mini reti e i contatori intelligenti che si possono pagare attraverso semplici SMS da un telefonino. Altra soluzione e alleato importante è lo sviluppo dell'efficienza energetica. Si pensi al cambiamento da una lampadina incandescenza a un led che consuma una frazione e che quindi può essere combinata con un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto di una capanna per poter dare energia elettrica a una famiglia altrimenti esclusa da qualsiasi programma di elettrificazione. Si calcola che i sistemi solari decentrati ad oggi siano già oltre 150 milioni. Altro elemento fondamentale della sfida all'accesso all'energia è educare la sostenibilità, fare in modo che nei programmi e nell'educazione dei paesi in via di sviluppo vi sia anche un trasferimento di capacità tecniche e vi sia lo sforzo e la capacità di raggiungere dei contesti che fino ad oggi sono stati non considerati nelle politiche di elettrificazione nazionale. Se andiamo a vedere gli ultimi anni vediamo come sicuramente il numero di persone raggiunte dal servizio elettrico è incrementato, è quasi raddoppiato e sicuramente è molto aumentato il ricorso alle fonti rinnovabili, anche se ancora rimane una forte componente di ricorso alle fonti fossili. L'altra dimensione prospettica sono le provisioni di elettrificazione da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il numero di persone che avrà accesso all'energia elettrica aumenterà nei prossimi anni ma ancora nel 2030 avremo circa 600 milioni di persone che non hanno accesso al servizio e di questi 600 milioni oltre l'80% lo troveremo nel continente africano. Queste sono un po' le linee essenziali dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 7 delle Nazioni Unite. Grazie dell'attenzione.